Bella a tutti ragazzi, sono Facil111, oggi siamo su Days Gone Ragazzi davvero, questa sera mi ha pigliato davvero un sacco Quindi mettete mi piace, iscrivetevi e spero che la visione vi piaccia Buona visione Ok ragazzi, ha caricato finalmente Allora, allora, voi vi direte Facil, ma non si doveva fare una missione tipo Cioè, si doveva fare un'altra missione Sì, l'ho fatta off camera Perché era Una missione che, cioè Cioè, era una delle principali Però non era nulla di importante Posso dirvi solo che Che ho trovato parecchie cose Cioè, no Cioè, ho preso l'H Ho preso una K E Massacrato tanta gente, però Per nulla di che Oggi invece voglio fare Allora, ci sono nuove tre missione Pronti al via Per la storia Questa è la storia principale Drogato Marcio Che praticamente Mi hanno detto che c'era uno Che ha sparato a tutti Se ne è scappato Lo dobbiamo cercare Oppure c'è Oppure c'è Distruggere i nidi degli zombie Oppure Andare nel Nel vecchio cimitero Pieno di zombie Ovvio E Ammazzare tutti Vabbè, ma ragazzi Io direi Allora Noi siamo Dove cacchio siamo Siamo Amo Siamiamo Vabbè Andiamo Qui A Distruggere i nidi Forza Allora L'ultima volta La moto Mi si era rotta Molto Quindi L'ho potenziata Il meccanico Dove La posso anche potenziare Però devo fare delle cose Per il meccanico Capito Quindi Eh Problemo Vabbè Ma adesso Concentriamoci Concentriamoci Su questa Missione Mi sono già schiantato Benissimo Moto Riparata Eh L'ho riparata Proprio adesso Benissimo Che poi ragazzi Quella missione Che ho fatto Non era proprio Off camera Era più che altro Una missione Cioè L'avevo L'avevo Registrata Il problema È che Quello Il registramento È andato Perso Cioè Praticamente Eh Spera che Questi parlano Praticamente Il Cioè Quel video Non Non me l'ha salvato E Quindi adesso Non ce l'ho più Ma ragazzi Non vi preoccupate Che era una missione Da poco soldi Ah e poi ragazzi Questo è il punto In cui Io Ho Poi Riniziato il gioco Quindi da ora in poi Non so più niente Ho solo paura Che Che Fra Qualche missione Ci sarà un'urda Bella Grossa Mannaglia Allora Il campo Il campo E' quello là Quindi andiamo Benissimo Sarà pieno di zombie Già lo so Ok ci sono Questo campo Sono infestato Ah si No Meglio lasciare la moto qui Dick Finirai per attirarti Li tutti addosso Ok Allora Ragazzi Abbiamo 58% Di Di Benza Perché Allora I nidi Quali Allora Prima di tutto Lei c'è un carattrezzi Ok Gli zombie Io non so precisamente Dove stanno La pistola Ho tutti i colpi Massimo Infezione Furiosi Ah è proprio come Dicevo Che non ho Poi ci sta La zona rossa Infezione Dei furiosi Sono aree Estremamente Pericolose Dove Furiosi Si è E Aggregano Per costruire I propri nidi Ed entrare In invernazione Durante il giorno Brucia tutti i nidi Per presenti In un'area Per sbloccare Il nuovo percorso Del trasferimento Veloce Ah Ok Quindi Dobbiamo bruciare Quindi Tu mi stai dicendo Il problema Il problema Dicevo E che Non so Questo Crede che sia Un nido No Quindi tu mi stai Dicendo Io prendo Una molotov Lancia Ok Stanno arrivando Ok stanno arrivando Credo Oddio Oddio Va bene Poi Il magazzino, perfetto. Cazzo, mi siete cagati attosso insieme, porca puttana. Buonasera. Maledetti, fuoriosi. Che devono ci fate qui dentro? Oh, questo posto è una trappola. Oh mio Dio, ci sono davvero tanti nidi qua. Ma io potendo me ne andrei. Qui abbiamo del combustibile, del kerosene, per l'esattezza. Ma il kerosene non lo posso lanciare? No. Maledizione. Oh, ok. Devo stare attento, molto attento. Ok, volendo c'è pure un'uscita qua, eh. Mamma mia, ragazzi, è proprio piena. Oh mio Dio. Scappa, 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 scappa. Ok, questa è la kappa, ragazzi. Ok. Ok, credo che sono, cioè, si sono distrutti. No. Solo uno. Maledetti. Ok, iniziami. Ok, dammi subito un'arma. Che si sta bruciando tutto. Nido distrutto. Eccoli là, che scendono. In fine indiana, proprio. Mamma mia. Ma chi ci... Ma chi mi ci mette a fare queste cose? Queste cose molto pericolose. Zè. Le sono accese. Ok, mamma mia, però. Benissimo, tagliamolo. Di cosa è la resistenza? L'arma, la mischia è rubata, che scucca un po'. Ah. Ah, si è rotta. Ma noia. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. È proprio una guerra qua. Che fammi usare un kit medico? Ok. Mamma mia, spero... Spero che poi mi dà una buona ricompensa. Spero che poi mi dà una buona ricompensa. Spero che è qualcosa di buono. Oh mio Dio. Mamma mia, li sto facendo arrabbiare tutti quanti. Oddio. This is... Stai lontano da me. E dai, dovrebbe far malissimo sto voltello. Mori. Ok. È morta, dai. Poi, ma non so se ci sono pure altri sparsi, ma spero di no. Ok, posso creare altre molotov, per fortuna. Solo due, va bene. Il problema è che sto finendo le munizioni molto rapidamente. Spero che posso andarmi a fare il pieno di munizioni da qualche altra parte. Mamma mia, ma questa missione è cardiopalma. Cioè, non si può. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, ecco l'altro nido. Scappa via. Scappa, scappa, scappa. Corri, scappa, c'è il niemes, yes. Oh, Mr. X, non lo so. Scrivami, Mr. X. Che è morto. Distrugge i nido. Ah, ne rimane solo uno di nido. Meno male, perché sto finendo tutto. E, mamma mia. La pistola ce l'avevo proprio al massimo. Maledetti. Adesso cerco di... crearmi un po' di colpi per la balestra. Ah, ho scoperto che si può... E' finito. Ho sentito rumori brutti. Molto brutti, non brutti. Bruttissimi, brutti. Quindi scappa. Mamma mia, ma dove... Mamma mia, ma dove sta poi sto altro nido? Ok. Qui non ci sta. Ti prego, non dirmi che sta qua dentro. Buonasera. No, ma posso crearmi altre molodov. Ti prego, dimmi che ci sono anche due munizioni. Carosene. Bello, figlio. Qua che cosa abbiamo? Non ho capito nulla. Va bene. Abbiamo sette colpi della cappa, della pistola e otto colpi della palestra. Usiamo la palestra. Ma io voglio ancora capire questi. Dove stanno annidati? Qua è libero, ormai. E mo' è tutto libero. C'è una sega circolare. C'è una sega circolare. Cosa è successo in questo posto? Oh, aspetta un momento. Lì c'è un po'. Oh, che... Che cos... Ragazzi? Per... Ti prego, non dirmi che stanno... È un treno! Oh no. Perché keep out? Ma ripensandoci. Fammi stare acquattato. Non benvenuti qui. Perché? Mamma mia, devo stare super attento qua. Ragazzi, perché non devo andare in questi posti? Oddio, oddio. Ave Maria, piena di grazia. Non ci sta nulla. Campo degli negati. Pensate di potermi aggredire e passare la lescia. No, ok. Qua non ci sta nulla. Amen. Mamma mia, mamma mia. Non ci sta nulla, siamo sicuri? Mamma mia, fammi scappare da sto posto. Credo... No, ma credo fortemente che ci sta proprio un'orda qua dentro a riposare. Allora, mi hanno segnalato per un momento il posto, ma non lo vedo. No. Non lo vedo, allora. Aspetta, riproviamo ad andare là, che può essere che non ho mancato uno. Ma poi veramente, dove cavolo sta? Ma poi dove cavolo si vanno a rintanare questi qua? Sti così brutti. Ma sono brutti proprio. Buonasera. Ok. Qua bruciato. Bene. Bruciato. 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 E bruciato anche sembra. Ne rimane forse qualcuno. Che mi hanno segnalato che ce n'era pur un altro. Ma non so dov'è. Ragazzi ho trovato il nido. Che sta là dentro. Questo ha detto ragazzi non fate caso a me, fatevi bruciare. Santo Dio. Oh Gesù. Suip. Ok. Grazie mille. Oddio. Oddio. Fiducia aumentata. Grazie. Al campo di Kuplan. Grazie mille. Quindi adesso ho più fiducia e credo che posso comprare anche altre cose. Che colpa è la testa. Adesso deve morire lei. Mamma mia. Era l'ultimo. Mamma mia. Benissimo ragazzi abbiamo liberato. Adesso vado a prendere la benzina dal carro a Trezzi. Come se vi è venuto a prendere? Come va bene come venite? Come va bene? Come è andato? Non è andato? Non è andato? Non moltissimi. Queste ho scelto di muovermi di notte. Se alcuni erano dei gran bastoni. Ok ragazzi allora Adesso credo che dobbiamo andare Al campo Kupland Credo Ah no Questa è un'altra missione Ma il gioco ci dice di andare da questa parte Ma io credo di no L'episodio è ancora finito Quasi Ma io vorrei andare Dov'è? Non qui Al campo Kupland Kupland Emoviamoci che sta venendo a diluviare Riempiamo subito La di benzina la nostra motocicletta E poi vediamo Se è il campo Kupland Vediamo Ok ragazzi allora Adesso dobbiamo andare con la nostra motocicletta da bikers Al campo Kupland Perché Con il primo livello fiducia Dovremmo Riscattare nuove ricompense Per la nostra moto Che non ho potuto comprare nulla Per la nostra moto Perché la nostra moto Fa schifo Ma noi Mi sa che col primo livello fiducia Possiamo finalmente comprare i primi pezzi Per riassembrarla No? Quindi ho voluto sperimentare Quindi ho voluto sperimentare Attenzione che qua sta pieno Mamma mia Mamma mia quanto sta pieno Mamma mia Ok Oh mio dio Poi abbiamo i scarchi Capienza Serbatoio Serbatoio Eh Telaio Telaio 1 Bello Molto bello Ok Possiamo Ah no Questo al Livello fiducia 2 Ah Mamma mia E i pneumatici I pneumatici 1 Ok Prendiamo il I secondi I secondi Se dai Ok Qua C'è bisogno di 600 Ok Questo Serbatoio 1 Quindi adesso dovremmo Avere Molta più benzina In teoria Ok Possiamo anche Riparare Qua possiamo Riparare Perché ogni tanto Si rompe la moto Eh Sì Aspetta Ma ho lasciato la benzina L'ho riempita O non l'ho riempita Non mi ricordo Sono stupido Ho la memoria Di un criceto rotto Vabbè Comunque Vorrei fare il pieno Un attimo Di munizioni Passa quando vuoi Ok Quindi adesso abbiamo Il fucile D'assalto Al massimo Ma Non La pistola Ah Mannaggia Questo è un grande problema Allora Però Io so Che da qualche parte Ci stanno Anche Vi ricordate Lo scorso Proprio lui E Vabbè Quindi praticamente In qualche posto Ci sarà Anche Munizioni Accacciatori Accacciatori Di accampamenti Ah Giusto Ci sono Pre accampamenti Che mentre Che credo Che mentre Passavamo Ne abbiamo Trato uno Mi Bello Ragazzi Ma Se il video Vi è piaciuto Mettete mi piace Che scu-